Il Orchidea di Mar per il comando. Orchidea di Mar avanti a Nissa del Ronco, poi all'esterno Nemes Bypass, veloce dalla seconda pila Oratio GK. Gresso in piegata con Nissa del Ronco alato di Orchidea di Mar, il lancio completato in 13.5. Orchidea di Mar ha rispinto Nissa del Ronco che rimane all'esterno, poi più a largo Nemes Bypass e Oratio GK. Si esce così dalla piegata con Orchidea di Mar sempre battistrata nella sua scia Master Jeep, a largo rimane Nissa del Ronco, poi all'esterno la progressione di Nemes Bypass e di Oratio GK a quarta iniziale in 28.7. Continua a progredire Nemes Bypass, tanto sbaglia Oxford CR, quantomeno un inciampone. piegata con Orchidea di Mar raggiunta da Nemes Bypass lungo la corda sempre Master Jeep e poi in fuori, sempre Oratio GK a 32.2, il secondo quarto, 58.9, gli 800, alla media di 13.6. Orchidea di Mar avanti a Nemes Bypass, tanto retrocede Oratio GK. Sta invece progredendo ora Oxford CR e ha anticipato la risalita di online Speedback, sempre passato in vantaggio Nemes Bypass verso la coda. retrocede invece Orchidea di Mar, 36 la terza parziale, ingresso addirittura con Nemes Bypass avanti a Oxford CR e online Speedback prontesa a centro pista, lo scatto di online Speedback che sta prendendo chiaramente la meglio e allora levata dall'azienda agricola Eporegna di Bertacco Cristal per i colori del signor Matteo Laiacona, training e la guida di Santo Mollo, va ad imporsi il numero 15. online Speedback, totalizzatore 6.42, le battute conclusive a rallenti, la solo del numero 15, online Speedback, alle cui spalle per il secondo posto scorre lo slow motion, il 7 di Nemes Bypass, poi il 6 di Nissa del Ronco e il 14 di Odile, in linea per la terza posizione, 15, 7 e probabilmente in terza posizione il 6, ma c'è veramente un baffo tra Nissa del Ronco e Odile, questo è il risponso del premio Bad Flag Bingo in Pica Nazionale, concorso 4.225. Grazie per essere stati con noi, a tutti, buon proseguimento di serata.